Eccolo il posto di vendetta che Rosa Boscarina indirizza ai killer di suo figlio, Alessio, trovato morto nella notte tra sabato e domenica dalla polizia all'interno dei giardinetti di Via Tasso a Priola Gargallo in provincia di Siracusa. Un messaggio durissimo che prima invita gli assassini ad andarsi a nascondere e poi punta il dito contro qualcuno di ben preciso. Un particolare che non è passato inosservato agli inquirenti, che in questo momento però non escludono alcuna pista. Tre per ora le persone posti stato di fermo per l'omicidio. Gli agenti della polizia in servizio al commissariato di Priola, insieme ai colleghi della squadra mobile e delle volanti della questura di Siracusa, indagano negli ambienti della droga. Il 24enne Alessio Boscarino era già noto alle forze dell'ordine per piccoli reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti. Non solo. Il ragazzo lo scorso ottobre era stato arrestato per aver minacciato di morte la madre e i nonni, che non volevano più dargli il denaro necessario per acquistare la droga. Dalle ricostruzioni effettuate, gli inquirenti hanno già accettato come killer di aver sospeso per il 24enne diversi colpi di pistola e che solo tre hanno raggiunto il bercello.